Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono Veronica e oggi voglio farvi vedere, è arrivata la My Beauty Box, è arrivata in questa scatolina, quindi niente pochette questo mese, però il contenuto è bello consistente. E' arrivato tutti i prodotti della Yves Rocher, per un totale, qua dice che questa box ha un valore di 55,62 euro, perché dice precisamente questo mese abbiamo deciso di regalarvi una splendida sorpresa, una box molto speciale, vabbè Yves Rocher, per farvi provare la nuovissima linea Elixir Jeunesse, uscita proprio ad ottobre. L'indispensabile routine detox per tutti i tipi di pelle con estratti di Afloia del Madagascar, selezionata per le sue virtù di generazione e protezione. I prodotti che sono usciti sono, che sono curiosissima di provare, sono tutte full size, allora è uscito questo, riparazione più antinquinamento, maschera flash ossigenante, estratto super concentrato, vedete? Non si legge bene? Da 75 ml, quindi è una full size, e qua dice che rinforza la pelle e la purifica dagli agenti inquinanti, e il consiglio d'uso è applicare due volte alla settimana uno strato generoso sul viso, evitando il contorno occhi. Chi lascia agire 5-10 minuti e toglierlo con un dischetto di cotone. Ah, e poi non bisogna risciacquare, bisogna togliere l'eccedenza con un dischetto di cotone, non bisogna risciacquare. Poi è uscita, l'acqua micellare detergente, vediamo il profumo com'è, no è buono il profumo, full size 200 ml, purifica e strucca perfettamente in un solo gesto, la pelle appare detossinata, levigata e luminosa. Consigli d'uso, applicare l'acqua micellare detergente su viso, occhi e collo con un dischetto di cotone, quindi va bene anche per il collo. Poi è uscito un trattamento ristrutturante giorno, sono tutte full size ragazze, quindi voglio dire, questo è da 30 ml, trattamento ristrutturante giorno, perli da normale a miste, però qua invece mi dice, vediamo, a me è arrivato, non vorrei sbagliare, Ah sì, ok, ripalla la pelle, limita i segni di affaticamento dopo il primo risveglio, la pelle appare distesa e rigenerata, questa è una crema notte, quindi avevo sbagliato a leggere, applicare tutte le sere una noce di questa crema, massaggiare delicatamente dall'interno verso l'esterno, lasciare agire tutta la notte, al risveglio la pelle apparirà più idratata, rigenerata e riposata, speriamo. Vediamo, che sto facendo delle nottate, perché mia figlia non sta bene, io sto un po' così, e vabbè. E poi c'è questo, piccolino, da 30 ml, elixir, giunesa, vabbè, riparazione più antiquinamento, trattamento ristrutturante, giorno, giorno, allora, pelli da normale a miste, ripala la pelle, limita i danni dell'inquinamento, immediatamente ossigenata e defaticata, la pelle appare più luminosa, dopo un mese le rughe appaiono ridotte, vabbè, la pelle è rinforzata e riparata, speriamo, abbiamo questa speranza. Consiglio di soprelevare una noce di prodotto e scaldarlo nel palmo della mano, poi massaggiarlo delicatamente dall'interno verso l'esterno del viso, evitare i contornocchi e applicare tutte le mattine. Ok, e questa è tutta la box, quindi sono molto molto curiosa, al limite faremo una, vi faccio vedere come li utilizzo di sera, faremo una night routine e una morning routine. E niente, spero che questi prodotti vi piacciono, vi farò sapere se sono buoni perché sono usciti nel mese di ottobre, quindi li trovate da Evrochet e vi mando un bacio, ciao, fatemi sapere se già li conoscete e se nel caso qualcuno li ha provati. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciatemi tanti commenti e un po' di censo, ciao!